Dopo il K.O. dell'Aragona di Vasto, Lisernia vive un pomeriggio davvero horror contro il Pineto nel pieno deserto dello stadio Mario Lancellotta, privo di tifosi che hanno annunciato la loro assenza attraverso un comunicato nel corso della settimana. Sugli spalti presenti solo poche unità, dirige il signor russo della sezione di torre annunziata, strazio che parte al minuto numero 8 per il team bianco celeste, esposito tutto solo nel cuore dell'area di rigore, gode della libertà di marcare il vantaggio abruzzese, concretizzando un assist dalla destra, avvio da incubo per Lisernia che subisce a distanza di poco tempo anche lo 0-2 ad opera di Cruz da Silveira che da fuori infila il palo lontano alle spalle di Tano. ventitresimo Tomasini dalla distanza fa partire una vera bomba e si inventa un gol straordinario per lo 0-3, dagli spalti qualche timida voce lancia l'appello, vogliamo in campo i ragazzi di Sernia, ventisettesimo prosegue l'agonia sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, Mazzei si iscrive anche lui alla festa e siamo adesso sullo 0-4, parziale che forse neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe pronosticato dopo una scarsa mezz'ora di gioco. Nell'ultimo giro di lancette del primo tempo, timido tentativo di Frabotta, parato a terra da Shiba, una squadra poco motivata con il morale sotto i piedi, con i fischi delle poche unità presenti, si chiude la prima frazione di gioco su porto tecnico di Danilo Scharinci per la ripresa, dove Lisernia trova il golo dopo 180 secondi. Via Romano ad attaccare lo spazio e a battere nell'uno contro uno il portiere Shiba, 1-4 per i locali che prendono un po' di coraggio, Petitti dalla distanza prova a mettere i brividi a Shiba ma ci vuol ben altro. Poco più tardi il guastatore di turno è Cameni che nel cuore dell'area di rigore con un tentativo acrobatico spedisce il cuoio sopra la traversa, non va meglio poco dopo a Marzio che trova la risposta del portiere avversario che blocca in tuffo. Pineto che invece punge di ripartenza, al 34esimo scatta l'ora del pocherissimo per gli abruzzesi, Mazzei scodella sul secondo palo e Cruz da Silveira si fa trovare pronto per la sua doppietta personale. La zampata vincente a completare il pomeriggio, no nel finale ci pensa il palo colpito da Frabotta, finisce 1-5 giornata completamente da cancellare per la squadra di Mister Silva. Fondamentale invece già da domani trovare le motivazioni giuste in vista della prossima trasferta al Manuzzi di Cesena nella Tana della Capolista.